E' bella a tutti ragazzi sono GameSlash e oggi vorrei farvi vedere questo server fantastico infatti si chiama Fantasticraft, vi lascerò il computer server in descrizione questo server non ha bisogno di ramaggio per andare delicato e non c'è la guante vista bene ragazzi, vi lascio vedere il nostro video e di più del server in me spazio il prossimo video, ragazzo, lo trattiamo su Geek Online vi faremo sapere i nostri video su quest e su Geek Online e vi faremo vedere il video in questo server è tutto ci vediamo alla prossima, ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti